Questa stanza è per me. Così quella brutta cameriera di una moglie può usare la soffitta. Perché mi si deve dire una cosa del genere? Dopotutto, sono io che ho costruito questa casa.La suocera che si è intrufolata nella nuova casa che ho costruito a mio nome e ci ha costretti a vivere insieme. Questo sì che è un po', eh? Non mi rispondi? Incredibile punto di solito, dovresti lasciar perdere senza dire nulla a me, tua suocera. Non è possibile. Normalmente, non ci rinunceresti e basta. Soprattutto non con te, che mi stai tormentando come una nuora.Poi, io e mia suocera abbiamo continuato a discutere per un po', ma a poco a poco la cosa è diventata fastidiosa. Se sei disposta a vivere in soffitta, sbrigati a dirmi che mi darai questa casa. Stupida brutta moglie.A quell'osservazione di mia suocera, la mia pazienza è finalmente scoppiata. Basta con le cose brutte e da cameriera. Se devi dire così, ti capisco. Ah, va bene. Allora, suocera, ti prego di vivere in questa casa. Me ne vado punto se avessi discusso quello che ho detto fin dall'inizio, sarebbe stato meglio. Bene, ora vivrò in questa casa punto sentendo che me ne andavo, mia suocera era felicissima. Per ora può essere felice, ma lasciatemi dire questo. Non ho mai detto che rinuncerò alla casa. La proprietà di questa casa è mia, dopo tutto punto non perdonerò mai te, che mi hai tormentato così tanto come nuora. Quando ho lasciato la casa, ho giurato in cuor mio di vendicarmi di mia suocera.Il mio nome è fede. Ho sposato Peter, che ha la mia stessa età e lavora in una concessionaria d'auto, quattro anni fa. Fate, pensi mai di volere una casa tutta tua? Beh, sì. Ma non abbiamo ancora risparmiato abbastanza, giusto? Vorrei guadagnare di più. Lavoro come designer in un'importante agenzia pubblicitaria, ma non potevamo ancora permetterci di comprare una casa. Mentre vivevamo in un appartamento economico, passavamo le giornate a sognare di costruire un giorno la nostra casa.Il nostro rapporto è buono e litighiamo raramente.Tuttavia. Io e la madre di Peter, mia suocera, abbiamo un rapporto pessimo, lei è il coniuge di Peter. Sembra che tu abbia una faccia sfortunata. Mi chiedo cosa ci trovi Peter in una persona come te. Ah appunto ricordo ancora cosa mi disse mia suocera quando la incontrai per la prima volta durante la presentazione del nostro matrimonio. Tutto quello che potevo fare in quel momento era sorriderle e sopportare il tempo che passava.Ascoltate, non mi sono mai mancati i soldi. Mio marito è morto, ma era direttore di un'azienda. Abbiamo ricevuto una sostanziosa indennità di licenziamento. Invidiosa, vero? Ehi, smettila.È imbarazzante. Non c'è bisogno di vantarsi così.È la verità. Quindi va bene così. Vengo da una famiglia benestante e avevamo anche una cameriera. Oh, visto che siamo in argomento, che ne dici di lavorare come domestica a casa mia? No, grazie. Preferirei di no è la prima volta che incontro qualcuno che si vanta così tanto di essere ricco. Da come parla mia suocera, deve essere stata piuttosto ricca. Ma Peter di solito non parla di queste cose.Probabilmente è cresciuto vedendo sua madre e ha deciso che non voleva essere come lei.Ehi, ehi, che succede? Ti stai spegnendo? Oh, scusa. Mi sono persa e ho pensato al passato. Mentre parlavo di soldi con mio marito, mi sono inavvertitamente ricordata di aver conosciuto mia suocera.Dovrei smettere di pensare troppo a mia suocera. Il nostro appartamento e la casa dei miei suoceri distano circa 30 minuti a piedi l'uno dall'altro, ma credo che mio marito tende alla situazione sotto controllo. Mia suocera non viene a trovarci molto spesso.Ci incontriamo un paio di volte all'anno e va benissimo così. Pensavo che, finché manteniamo una distanza ragionevole, non dovrebbe esserci alcun danno per me.Tuttavia, a causa di un certo incidente, ho finito per essere terribilmente maltrattata da mia suocera.È successo sei mesi dopo.Quando tornai dal lavoro. Mio marito era seduto su una sedia con un'espressione cupa. Perché quello sguardo serio? Peter, cosa c'è che non va? Alla mia domanda, mio marito si inginocchiò e iniziò a piangere. Mi dispiace. Mi dispiace davvero. Sono stato licenziato dal mio lavoro. Cosa? Ma perché? L'azienda era coinvolta in alcuni illeciti, che sono venuti alla luce. A causa di ciò, i profitti sono diminuiti e hanno deciso di ridimensionarsi. E poiché le mie prestazioni di vendita non erano molto buone, sono stato preso di mira. Quindi si tratta di un licenziamento. Non posso incolpare mio marito per questo. Non si può fare nulla. Dovremo trovare un altro posto. Ma il nostro reddito diminuirà.Chissà quando potremo comprare una casa se continuiamo a pagare l'affitto dell'appartamento? Sì, è vero. Ma non abbiamo altra scelta che cercare di ridurre i costi, giusto? Peter ha ragione.D'ora in poi il mio reddito sarà l'unica fonte affidabile. Mentre mi chiedevo cosa fare, mio marito ha proposto di andare a vivere a casa dei suoi genitori. Ehi, potrebbe non piacerti. Ma che ne dici di chiedere a mia madre se possiamo vivere a casa dei miei per un po'? In questo modo potremmo risparmiare sull'affitto. In effetti, questo ci permetterebbe di risparmiare sull'affitto e forse anche di risparmiare un po' di soldi. Credo sia un caso di necessità. Sinceramente, non volevo vivere con mia suocera, ma dopo averne discusso con mio marito, abbiamo deciso di trasferirci a casa dei suoi genitori. Una settimana dopo abbiamo lasciato il nostro appartamento e siamo andati a casa dei miei suoceri.È bello vedervi. Benvenuti.Grazie e grazie a voi. Saremo affidati a voi per un po'. Ho incontrato mia suocera dopo tanto tempo e mi sono sentita spaventata anche se non aveva fatto nulla. Vedendomi così, mia suocera sorrise.Rimarrai in questa casa, quindi capisci, vero? Mi dispiace. Cosa vuoi dire? Beh, è ovvio. Sarai tu a fare le pulizie, il bucato e la spesa, giusto? Certo. È naturale. Farai almeno questo, giusto? Ora, puoi usare tutte le stanze che vuoi, ma per favore inizia a pulire il soggiorno.Con questo, mia suocera se ne andò nella sua stanza. Beh, se devo restare qui, farò quello che posso. Quasi mi sfogo con i miei pensieri interiori, ma riesco a trattenermi. Anch'io lavoravo, e sicuramente mia suocera doveva capirlo.Pensavo che sarebbe stato sufficiente. Ma ero ingenuo appunto il giorno dopo iniziarono le pesanti molestie di mia suocera.Non torni troppo tardi dal lavoro? Guarda, il bucato si sta accumulando e per favore pulisci il bagno oggi. Inoltre, sbrigati a preparare la cena. Ho così tanta fame che potrei morire.Se hai intenzione di dire così tanto, non le farebbe male fare qualcosa da sola. Ma non ho il coraggio di dire queste cose a mia suocera. Sarebbe un problema se la facessi arrabbiare e mi cacciasse via.Mi dispiace. Lo farò subito.Forse ho sbagliato a seguirla immediatamente in quel momento.Da quel giorno in poi, le molestie di mia suocera aumentarono di giorno in giorno.Portami del tè. Sono stanca.Fammi un massaggio.Ogni giorno, dopo il lavoro, mia suocera mi stressava troppo e non avevo tempo per riposare. Volevo lasciare questo posto il prima possibile.Lo desideravo, ma a quanto pare mio marito non aveva ancora trovato un lavoro.Quindi non potevamo ancora lasciare la casa dei suoi genitori.Suocera, mi dispiace, ma torno a casa tardi a causa del lavoro.Se possibile, potresti aiutarmi con le faccende domestiche durante il giorno?Eh, perché devo farlo io?Se devi dire queste cose, potresti anche lasciare il tuo lavoro.Mi ha detto di lasciare il lavoro.Non è così facile sentirselo dire.Quella sera, prima di andare a letto, raccontai a mio marito quello che aveva detto sua madre.Oggi tua madre mi ha detto che se non riesco a gestire le faccende domestiche, dovrei lasciare il mio lavoro.Potresti chiederle di aiutarti un po' con le faccende domestiche?È difficile da dire, ma non va bene che tu lasci il tuo lavoro.Cosa stai dicendo? Non hai ancora trovato un lavoro e se mi licenziassi non potremmo più vivere, vero?Andrà tutto bene.Cela faremo in qualche modo.Mio marito disse che sarebbe andato tutto bene, come se fosse un problema di qualcun altro.Ma non c'era segno che stesse cercando davvero un lavoro.Anche se tornavo a casa presto.Si limitava a poltrire sul divano e nei fine settimana beveva birra fin dal mattino.Da quel momento ho iniziato a pensare di non poter contare su mio marito.Naturalmente non ha detto nulla a sua madre.Sono passati tre mesi da allora e le molestie di mia suocera sono continuate come sempre punto di questo passo, la mia mente e il mio corpo si sarebbero davvero spezzati.Con questo pensiero, ho deciso di comprare con la forza una nuova casa.Quando parlai a mio marito dell'acquisto di una nuova casa, lui mi rispose con indifferenza.Va bene.No.Ho portato subito mio marito da un agente immobiliare.Se avessimo costruito una nuova casa da zero, avremmo dovuto vivere con mia suocera per almeno altri sei mesi.Non potevo aspettare così a lungo punto scelsi una casa di nuova costruzione e quel giorno firmai il contratto.Finalmente mi sarei liberata dalle andirie di mia suocera punto ma i miei piani si sgretolarono facilmente.Due settimane dopo, era il primo fine settimana dal trasferimento nella nuova casa.Il lavoro e il trasloco sono stati frenetici, così ho pensato di organizzare alcuni scatoloni oggi.Proprio mentre pensavo questo, suonò il campanello della porta.Eh, chi poteva essere, visto che ci siamo appena trasferiti? Chiedendomi chi potesse essere, ho controllato il monitor del citofono.Cosa?Perché?Il monitor mostrava mia suocera.Non le avevo dato l'indirizzo.Come faceva a sapere dove abitiamo?Con un senso di terrore, le parlai attraverso il citofono.Suocera, è passato un po' di tempo.Che bella casa. Sono venuta a trovarti.Sbrigati ad aprire la porta, ti dispiace.È piuttosto disordinata in questo momento.Se siete qui per una visita?Forse sarebbe meglio un altro momento.Aprite in fretta.Sentendo mia suocera gridare, inavvertitamente obbedii.Mi ricordava le volte in cui ero stata dominata da lei a casa dei miei suoceri.Quando aprii la porta d'ingresso.Mia suocera mi ignorò ed entrò direttamente in casa.L'odore di una casa nuova.È bello, vero?Cosa la porta qui oggi?Mia suocera ignorò la mia domanda e iniziò a camminare per la nuova casa, ispezionando ogni angolo come se la stesse valutando.Dopo un po' cominciò a dire, qual è la tua stanza?È quella in cima alle scale.Hai un buon gusto, vero?Anch'io pensavo che quella stanza fosse bella.Cosa voleva dire?Non riuscivo a capire il significato delle parole di mia suocera da quando era arrivata.Suocera, te lo chiedo di nuovo.Qual è il motivo della sua visita di oggi?È ovvio, no?Sono venuta a controllare perché mi trasferisco qui.Cosa?Mi sfuggi un suono involontario e patetico.Vivere qui?Non ne ho sentito parlare.Ho deciso che vivrò nella tua stanza.È sprecata per una brutta cameriera come ti.No, aspetta un attimo.È così improvviso.Che c'è?Hai una lamentela?Allora non hai altra scelta che usare la soffitta.Questo dovrebbe risolvere il problema, no, no, non era quello che intendevo.Dopo tutto, questa casa l'ho comprata io.Tuttavia, mia suocera non lo sapeva e sembrava credere che l'avesse comprata suo figlio.Peter ha guadagnato i soldi per comprare questa casa, non è vero?Allora è naturale che io viva qui, no?Inoltre, tua suocera ti chiede di lasciare la stanza.Non è forse buonsenso per te?La nuora deve cederla immediatamente, col cavolo che è buonsenso.Chi manca di buonsenso è lei.È impensabile presentarsi così e iniziare a vivere insieme.Le discussioni con mia suocera continuavano, ma lei non dava segni di cedimento.A poco a poco, mi sono stancata ed è diventato un fastidio anche solo avere a che fare con lei.Se ti va bene la mansarda?Allora dillo.Sbrigati a darmi questa casa.Stupida brutta moglie.Le sue parole hanno finalmente spezzato la mia pazienza.Basta con i discorsi brutti e fatti.Se è così che deve andare, lo capisco.Caldo, capisco.Allora, suocera, ti prego di vivere in questa casa.Io me ne andrò.Avresti dovuto obbedirmi fin dall'inizio, lol.Bè, ora vivrò in questa casa, lol.Mia suocera era felicissima di sapere che me ne sarei andata.Per un po' poteva essere contenta.Ma lasciatemi chiarire.Non ho mai detto che avrei rinunciato alla casa.La proprietà di questa casa è mia.Non perdonerò mai voi che mi avete tormentato senza sosta come vostra nuora.In quel momento giurai di vendicarmi di mia suocera.Decisi di lasciare la casa appena costruita proprio quel giorno.Avevo appena comprato e traslocato in una nuova casa e non mi sarei mai aspettata di finire in una situazione del genere.Ei, fate, cosa stai facendo?Stai facendo i bagagli.Me ne vado da questa casa.Mentre stavo sistemando la mia stanza, Peter entrò e mi parlò.Vedere la sua espressione spensierata mi ha reso ancora più furiosa.Dopo tutto.È perché non ha cercato seriamente un lavoro che ho dovuto sopportare il sovraccarico di lavoro di mia suocera a casa sua per così tanto tempo.Cosa?Te ne vai?Cosa succede all'improvviso?Abbiamo appena comprato la casa.Sono stufa sia di te che di tua madre.Tua madre mi tratta come una domestica, ed è per questo che ho comprato questa casa.Ma poi viene a dire cose senza senso come che dovrei vivere in soffitta.Dovrebbe andare bene, no?Siamo una famiglia.Sentire le parole di mio marito ha fatto scattare qualcosa dentro di me.Dovrebbe andare bene perché siamo una famiglia.Non essere ridicolo.Per la prima volta alzai la voce con rabbia nei confronti di mio marito.Non prendermi in giro.Mi è dispiaciuto per te quando sei stato licenziato.Ma per quanto tempo hai intenzione di continuare a fare l'ordinato?Sembra che tu non stia nemmeno cercando un lavoro e che non faccia altro che poltrire ogni giorno.Se avessi avuto così tanto tempo libero,avresti potuto occuparti di tua madre invece che di me.Non ce la faccio più.Voglio divorziare da te.Un giorno di divorzio.Aspetta, per favore.Stavo davvero cercando un lavoro.Allora perché ci è voluto così tanto?Il lavoro a tempo pieno non è l'unico tipo di lavoro.Avrei potuto tollerarlo se almeno avessi cercato un lavoro part time.Ma non hai fatto nemmeno quello.Le condizioni erano pessime.La paga era bassa.Trovare scuse per non lavorare significa essere viziati.Se si sentiva davvero dispiaciuto per l'assenza di reddito, poteva almeno trovare un lavoro part time.Alla fine, sembra che mi considerasse solo un bancomat.Mi aspettavo che mi rispondesse, ma è rimasto in silenzio.Quindi il tuo silenzio significa che sei d'accordo con il divorzio.Giusto?Oh,sì.Ok.Se vuoi divorziare così tanto, divorziamo.Che uomo patetico.Se avesse un po' di orgoglio, si precipiterebbe subito a cercare un lavoro qualsiasi, anche part time.Beh, è inutile dire altro ora.Avevo sempre conservato un modulo di divorzio per ogni evenienza e lo consegnai a mio marito.Ecco.Firma subito qui.Me ne andrò non appena avrò la tua firma.Le sue mani sembravano tremare mentre firmava il modulo di divorzio con una calligrafia tremolante.Ecco.Ho firmato.Ho ricevuto il modulo di divorzio da mio marito e ho controllato che l'avesse firmato correttamente.Bene.L'ha firmato correttamente.Lo depositerò in tribunale.Inoltre,non chiederò gli alimenti.Non voglio più avere a che fare con te.Invitami appunto con queste parole.Lasciai la nuova casa.Andai direttamente in tribunale e presentai il modulo di divorzio.Ora sono una completa estranea sia per mio marito che per mia suocera.Ora che non siamo più legati da vincoli di parentela.Non avrò pietà di quei due.Mi assicurerò che cadano completamente all'inferno.Dopo aver lasciato il municipio, mi sono diretta all'agenzia immobiliare.Durante l'ufficio dissi subito all'impiegato, voglio vendere la mia casa.L'impiegato, sorpreso dal mio approccio improvviso, mi ha risposto. Hai il registro anagrafico?Sì, eccolo qui.Do un'occhiata.Quando l'impiegato aprì il registro, si bloccò.Cosa c'è che non va?C'è un motivo per cui non può essere venduto?Qual'è il problema?Beh, mi perdoni se lo dico, ma lei ha comprato questa casa da poco, giusto? Non è passato nemmeno mezzo anno da quando è stata costruita.Sì, non mi serve più. Non ho bisogno di una casa in cui vivano quelle persone, piuttosto che di un uso improprio. Preferisco che ci viva qualcun altro punto quando l'ho spiegato all'impiegato, mi è sembrato che capisse la mia situazione e ha immediatamente avviato una procedura di vendita.Con questo, il contratto è completo.La contatteremo quando avremo trovato un acquirente.Capito? Grazie mille.Dopo aver lasciato l'ufficio immobiliare, decisi di tornare a casa dei miei genitori.I miei genitori furono piuttosto sorpresi dal mio improvviso ritorno, ma quando spiegai loro la situazione e raccontai del divorzio, furono ancora più sconvolti di me.Ti hanno fatto tanto male.Non li perdonerò mai.Gliela farò pagare.Smettila, papà.Inoltre, non voglio più avere a che fare con loro, quindi puoi stare calmo.È stato difficile calmare mio padre, ma alla fine ha recuperato la calma.Per il momento decisi di rimanere a casa dei miei genitori.Due settimane dopo?Ormai quei due probabilmente non sanno nemmeno che ho venduto la casa e si stanno godendo le loro giornate con non curanza.Mentre bevevo il caffè in salotto e pensavo che il telefono squillava, ecco che arriva.Pronto.È stato deciso?Sì, abbiamo trovato l'acquirente.Tuttavia, all'acquirente non piace la recinzione e ha chiesto di demolirla prima di trasferirsi.Oh, tutto qui.Avrebbero potuto farlo senza chiedermi nulla.Va benissimo, possono fare quello che vogliono.Inoltre, non ho più il diritto di oppormi.Be, il tuo ex e sua madre vivono ancora lì.Non c'è problema.In origine, quando la casa è stata venduta, avrebbero dovuto traslocare, ma grazie alla gentilezza dell'impiegato, hanno avuto il permesso di restare finché non si è trovato un acquirente.Giusto?Che ne dite di questo?Per favore, fatemi sapere il giorno della demolizione.Sarò lì a supervisionare.Mi è stato detto che la demolizione della recinzione della casa sarebbe avvenuta sabato prossimo.Dopo aver riattaccato il telefono non riuscivo a smettere di ridere.Riuscivo a immaginare quei due nel panico.Il momento della vendetta è finalmente arrivato.Aspettavo con ansia quel giorno.E poi arrivò il giorno della demolizione.L'inizio della demolizione della recinzione era previsto per le 8 del mattino.Ero così eccitato che non riuscii a dormire molto la notte precedente e arrivai un'ora prima dell'inizio della costruzione.Non vedevo l'ora che iniziasse.Quando ho controllato l'ora, erano le 7 e 50 del mattino.Uno dopo l'altro gli operai si sono riuniti e tra loro ho visto l'agente immobiliare. Sembrava avermi notato e si avvicinò con un sorriso.Grazie per essere venuto qui oggi.Non c'è problema.Non vedevo l'ora che arrivasse.Non vedevo l'ora.Non importa.È solo una cosa che mi riguarda.Non si preoccupi.A proposito, è sicuro che non dovremmo informare le due persone all'interno della demolizione.Non c'è problema.In realtà è meglio così.Per favore, iniziate pure.Ho chiamato gli operai come se fossi un capocantiere.Forse commossi da ciò, gli operai hanno iniziato ad attivare i macchinari pesanti e a demolire la recinzione.Cosa?Cosa sta succedendo?Cosa state facendo?Fermatevi subito.Prevedibilmente.Il rumore era eccessivo.Mia suocera uscì di corsa dalla casa in preda al panico.Il mio ex marito era proprio dietro di lei.Suocera.È da tanto che non ci vediamo.Sei stata bene?Fede?Tu?Fermali subito.Che cosa?Scusa?Cosa hai detto?C'è un po' di rumore qui intorno.Non riesco quasi a sentirti.Certo.Sentivo la voce di mia suocera.Glielo ho chiesto di nuovo di proposito e lei è diventata rossa di rabbia.Ho capito.È opera tua.Pensi di vendicarti per averti cacciato di casa.Fare una cosa così egoista.Chiamerò la polizia.Può chiamare la polizia, se vuole.Ma poi gli unici ad essere arrestati sarebbero loro.Ho detto a mia suocera con sicurezza, se chiamate la polizia, non sarete voi ad essere arrestati.Cosa? Di che cosa sta parlando?Non ha alcun senso.Mentre discutevamo, la demolizione continuava senza intoppi.Sembrava che fossero riusciti a demolire la recinzione in modo approssimativo.Notando questo, mia suocera si infuriò ancora di più.Sulla mia casa.Non vi perdonerò mai.Credo di averne avuto abbastanza.Mi stavo stancando delle reazioni di mia suocera.Decisi che era arrivato il momento di dirle la vera verità.Cè un motivo se le cose sono finite in questo modo.Fuori c'è molto rumore per le demolizioni.Vogliamo parlare in casa?Con riluttanza, mia suocera mi invitò ad entrare.Allora, qual è il motivo?Non trovare scuse.O chiamerò davvero la polizia?È quello che ho detto.Puoi chiamarla se vuoi.Sei tu che verrai arrestato.Mettiamo da parte questo argomento per ora.Può spiegarci perché sta succedendo?Il mio ex è stato messo sotto pressione.Bene.Le spiegherò lentamente.Ascolti,questa casa è stata comprata da me.Che cosa?Cosa sta dicendo?L'ha comprata Peter,giusto?No,quello che sta dicendo fate è corretto.Non l'ho comprata io.Che cosa?Aspetta un attimo.Quindi,questo significa?Sì,ho comprato questa casa.Allora, suocera,adesso capisci,vero?Chi è il proprietario di questa casa,vuoi dire tu.Sembra che mia suocera abbia finalmente capito la verità.Esatto.Però non è più di mia proprietà.Capisce cosa significa?Questa casa è già stata venduta.No,non può essere.Ah,che bella sensazione.Sentire una voce così patetica da parte di mia suocera,che mi tormentava tanto.Ma non c'era bisogno di arrivare a tanto.No,no,sei tu che parli.Quasi ricompensai.Lottando per trattenere le risate,lanciai uno sguardo a mia suocera e un'osservazione sarcastica.Come ci si sente a subire la ritorsione di quella brutta cameriera di una nuora che hai sfruttato per tutto questo tempo.Mi sento benissimo.Ora non puoi più vivere in questa casa.È un peccato.È per questo che te l'ho detto.Se chiamate la polizia,sarete voi ad essere arrestati.Sarebbe violazione di domicilio.Ehi,non c'era bisogno di arrivare a tanto.Stai ancora dalla parte di tua madre a questo punto.Sei davvero incredibilmente stupido.Piuttosto,è meglio che cominci a cercare in fretta un posto dove vivere.Tra meno di un mese sarai costretta ad andartene a causa della polizia degli interni.Sembra che né il mio ex marito né mia suocera abbiano più le energie necessarie per riorganizzarsi.Ho lasciato la casa con un'espressione serena, lasciando i due dietro di me.Be,è abbastanza pulito qui.Sì.Credo che per oggi sia finita qui.A proposito, di cosa stavate parlando dentro?Stavo solo dicendo a quei due di fare i bagagli e di andarsene in fretta.Ora che è stato trovato un acquirente,non possiamo permetterci problemi.Se si rifiutano di andarsene,si senta libero di chiamare la polizia senza alcuna esitazione.Bene.Allora vado.Salutai l'impiegato e tornai a casa dei miei genitori.Le espressioni sui volti di quei due erano davvero impagabili.Soprattutto lo sguardo di disperazione di mia suocera.Valeva la pena vendere la casa solo per questo.Ti serve a qualcosa?Mentre mi immergevo nella vasca da bagno a casa dei miei genitori,alzavo trionfante il pugno chiuso verso il cielo.Due settimane dopo.Sul mio cellulare arrivò un messaggio del mio ex marito.È passato un po' di tempo.Subito dopo mi sono trasferita in un appartamento economico.Quindi non devi più preoccuparti di quella casa.Inoltre,ho iniziato a riflettere e ho trovato lavoro in una fabbrica di auto come operaia a contratto.Mi pento di non aver agito prima.Il rimpianto non ti riporterà indietro.Da quando te ne sei andato.Mamma ha iniziato a prendersela con me e ho capito quanto sia stata dura.Ora capisco le difficoltà che hai affrontato.Abbi cura di te.Come si dice,è inutile piangere sul latte versato.Finalmente ha capito qualcosa che non può essere evitato.Questi sciocchi, madre e figlio, potrebbero anche godersi la vita insieme.Ho cancellato il messaggio senza rispondere e ho bloccato i contatti del mio ex marito.Non voglio più essere disturbata da lui in futuro.Per un po' ho intenzione di godermi la vita da single, senza stress e facendo giochiamo. Grazie. Grazie.